Esito conforme è il risultato degli esami condotti dal personale dell'ARPA Puglia sul tratto di mare della litorania di Ponente antistante il cosiddetto canale H a Barletta, dove Goletta Verde aveva segnalato la presenza di sostanze inquinanti. Le analisi delle acque di balneazione della città eseguite il 1 agosto, fa sapere l'ARPA, hanno dato esito conforme, confermando la balneabilità. ARPA ha eseguito il monitoraggio delle acque marino costiere nel territorio comunale di Barletta, compresa l'acqua di balneazione che include anche la zona di mare antistante la focia del canale H e le risultanze analitiche che hanno richiesto tempi di analisi tra le 24 e le 48 ore hanno dato esito conforme, dichiara il direttore generale di ARPA Puglia Vito Bruno, spiegando che il monitoraggio è effettuato con una frequenza mensile nel periodo compreso tra aprile e settembre e prevede il controllo di due parametri analitici di tipo microbiologico ed inquinamento di origine antropica in ben 676 punti di prelievo lungo tutta la costa pugliese, corrispondenti ad altrettante aree destinate alla balneazione. Noi siamo un'agenzia ambientale, abbiamo il compito di dare i dati e poi ci dobbiamo confrontare con gli stakeholder, quindi gli operatori, le associazioni, non ci dobbiamo sottrarre al confronto, ripeto, se il dibattito è scientifico. In questo caso corrisponde ha un costante miglioramento della Puglia, questo è un grande vantaggio perché vuol dire che stiamo spingendo effettivamente bene nella direzione giusta, lo vediamo dal turismo, possiamo migliorare in questo caso anche nella pesca perché la prima regola in materia ambientale è proteggere quello che abbiamo.